L'assessore Donazzan convoca in regione i vertici dell'ex Lametal per fare chiarezza sulla situazione dell'azienda. È decaduto il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Marossica, sospeso il direttore generale Gasparotto. Cause più lunghe, aumento delle spese, gli avvocati lanciano un appello per la manifestazione di venerdì. Zaia ricorda l'alluvione del Veneto e annuncia pronti ad inviare la nostra protezione civile in Sardegna. Passavano esistentemente con l'auto accanto a banche e ville, arrestati due uomini e sequestrato un arsenale d'armi. Aumentano i furti in abitazione, messi in campo controlli speciali delle forze dell'ordine. Buonasera a voi telespettatori, da Tatiana Lunardone e da tutta la redazione di Bassano OTG. Come avete sentito dai titoli, l'assessore regionale Elena Donazzan ha convocato in regione la proprietà dell'ex Lametal. Un incontro per fare chiarezza sulla situazione dell'azienda e studiare un piano di uscita della crisi. Ho deciso di convocare l'azienda e i lavoratori, quindi tutto il gruppo a Venezia prende una procedura di fatto, di verifica, perché siamo a pochi mesi dalla fine del contratto di solidarietà e quindi la regione ha l'obbligo di verificare quali siano le condizioni. L'assessore regionale a lavoro Elena Donazzan vuole fare chiarezza sulla situazione del gruppo Giona. In municipio a Valstagna, davanti ai lavoratori dell'ex Lametal, in presidio da più di due settimane davanti allo stabilimento di Oliero, l'assessore ha annunciato la convocazione in regione dei vertici dell'azienda per la prossima settimana. Chiederemo quali sono le intenzioni dell'azienda in termini di piano di rilancio o piano industriale o piano di organizzazione, questo dovrà dirlo l'azienda, anche rispetto agli impegni che devono essere assunti nei confronti degli stipendi dei lavoratori. Un intervento che potrebbe essere risolutivo, almeno per capire quali siano la situazione dell'azienda e le intenzioni di chi la guida. Abbiamo trovato una donna, un politico, che ha delle idee molto chiare, come noi ovviamente delle organizzazioni sindacali. La cosa ci fa molto piacere e ci farà ancora più piacere che ovviamente l'azienda si presti a fornire dei dati. A Valstagna i dipendenti dell'ex Lametal, in contratto di solidarietà fino a marzo e senza stipendio da quattro mesi, lamentano proprio la mancanza di qualsiasi comunicazione dalla proprietà. In questo momento l'azienda ha dimostrato di non essere solidale con i lavoratori, ma soprattutto non avere il coraggio di confrontarsi con il sindacato. A oggi lascia a Valstagna un numero di persone alla fame. Ora l'obiettivo è la creazione di una collaborazione che aiuti ad uscire dalla crisi. Se ci fosse la volontà dell'azienda, la regione è pronta ad applicare gli strumenti a sua disposizione. Azzerato il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Marossica. A provocarlo le dimissioni della vicepresidente Mario Meneghini. Sospeso il direttore generale Gianfranco Gasparotto. Il servizio. E' ancora bufera sulla Banca Popolare di Marossica. Le dimissioni del vicepresidente Mario Meneghini hanno causato la caduta del consiglio di amministrazione. Con le dimissioni di Meneghini, a quanto pare per ragioni di salute, è successo proprio quanto previsto dalle norme di statuto, venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti. Il consiglio di amministrazione della Popolare di Marossica, infatti, è composto da nove membri, ma di questi ce ne sono ben quattro scelti per cooptazione, in attesa di essere votati ed approvati dall'Assemblea. Un annullamento del CDA che di fatto fa scattare ciò che la Banca d'Italia aveva richiesto in primavera, ovvero la sostituzione dell'intero consiglio, richiesta che era stata respinta a larghissima maggioranza dei soci a luglio. Il consiglio di amministrazione di ieri ha inoltre sospeso il direttore generale Gianfranco Gasparotto, attribuendo le funzioni ad interim al dirigente Giuseppe Viero. L'organo amministrativo, si legge in una nota della banca, prosegue la sua azione di governo con pieni poteri, fino alla prossima Assemblea, rispettando anche gli impegni assunti con la lettera di intenti siglata con la Banca Popolare dell'Alto Adige. Siamo ora alla pagina economica. Artigiani ed istituti di credito cooperativo uniti per trovare la giusta strategia da seguire per una ripresa che sembra ancora lontana. E non mancano duri attacchi alla politica. La ripresa può esserci solo se gli imprenditori cambiano il modo di pensare l'impresa, nessun affidamento sulla politica. Di questo ne sono certi gli artigiani di Bassano e Marostica, che hanno organizzato, assieme alla Banca di Credito Cooperativo Romano e Santa Caterina, un incontro di settore per capire quali strategie utilizzare in un momento in cui non si vede alcuna via d'uscita. Dobbiamo cominciare a non vedere più il collega vicino come una persona che ti ruba il lavoro, ma deve essere una persona con la quale ti unisci per aggredire i mercati. Dobbiamo cominciare a fare squadra. E Letta che dice che c'è la ripresa? Ecco, io invito nuovamente Letta, come ho fatto con molti altri, di venire domani in macchina alle 6 in campanone da me. Mi dispiace, caro Letta, ma i tuoi dati non sono quelli reali. Credo che in questo momento dire che siamo arrabbiati e dire poco, perché noi assolutamente non vediamo il chiaro fondo del tunnel. Credo che la politica in questo momento faccia tante chiacchiere e pochi fatti. Un duro attacco alla politica dunque, certo, diventa indispensabile se si vuole concretamente lavorare uniti per la ripresa, che anche gli istituti di credito si impegnino per questa ripresa dell'impresa. Il concetto, d'altro canto, è semplice matematica. Il mondo del credito cooperativo su base provinciale e regionale oggi paga proprio la scelta di stare più a fianco dei propri clienti, con un aumento purtroppo del credito negativo sicuramente superiore rispetto alla media del sistema. In conseguenza c'è questo quesito, ripresa possibile o impresa impossibile? Ripresa sicuramente possibile, perché comunque la crisi prima o dopo finisce. Esportare per favorire la diffusione del made in Italy, aggredendo i mercati esteri può essere un'arma vincente, secondo Simonetto, che rivolge un chiaro appello anche a chi ci governa localmente. C'è bisogno che la politica e l'amministrazione, le amministrazioni locali facciano la loro parte per aiutare in tutti i modi possibili chi ancora tiene voglia di fare l'imprenditore. Meno giustizia e più spese per il cittadino. La soppressione della Tribunale di Bassano non sta portando alcun beneficio. Gli avvocati bassanesi rinnovano quindi l'appello alla partecipazione per la manifestazione di venerdì contro la chiusura del Palazzo di Giustizia. Io chiedo veramente, accolatamente, a tutti i cittadini, a tutti i 32 comuni che fanno parte della circolazione del Tribunale di Bassano di venire, di venire e di far sentire la loro voce. La chiamata alle armi, come è stata definita per la manifestazione contro la chiusura del Tribunale, è partita e si arricchisce di sempre maggiori motivazioni. I tagli o le soppressioni oggi li chiamano razionalizzazioni perché nelle intenzioni dovrebbero far risparmiare migliorando il servizio. Con la soppressione del Tribunale di Bassano non accade né l'uno né l'altro a partire delle spese, piccole e grandi, in alcuni casi addirittura aumentate, persino quelle del riscaldamento, a pieno regime in un palazzo utilizzato per un terzo. È un impianto studiato per un monoblocco, diciamo per un edificio di grande volumetria che ogni mattina veniva acceso e messo in moto in tutte le sue aree civile, penale, cancellerie, stanze dei giudici, aula delle udienze e purtroppo oggi è attivo. Più spese a fronte di un'amministrazione della giustizia che ha subito una brusca frenata. Ci siamo un po' scambiati qualche informazione con colleghi i quali uscendo dall'udienza riportano date, a quanto allucinanti, 2019, 2018, 2020. La soppressione di un Tribunale non è solo il rallentamento della giustizia e anche un pesante contraccolpo per l'economia cittadina. Gli esercizi pubblici intorno, i ristoranti, eccetera, sicuramente hanno già, i negozi stessi hanno segnalato un calo di presenze. In mercato immobiliare non ci saranno più richieste di uffici per adibire a studi legali nella prossimità del Tribunale. E alla manifestazione di venerdì per salvare il Tribunale di Bassano è dedicato il nostro tigiline aperta di questa settimana. Appello ai bassanesi. Venerdì l'ultima occasione per salvare il Tribunale. Come sempre fateci sapere la vostra opinione inviando un sms, un fax, una mail ai numeri che state vedendo in sovrimpressione. Il Presidente Luca Zaia è pronto a portare l'aiuto della Regione per affronteggiare l'alluvione che ha colpito la Sardegna. Un evento che riporta alla mente l'emergenza vissuta in Veneto appena tre anni fa. È una tragedia paurosa, i morti, il fango, l'acqua nelle città, ma è la volontà di essere assolutamente solidali, vicini e a disposizione. Se serve, il Veneto è disposto a richiamare anche i propri uomini della protezione civile per creare un bel contingente da mandare in Sardegna. La solidarietà del Veneto per la tragedia vissuta in Sardegna in queste ore è la disponibilità ad offrire un aiuto concreto. Eventi tragici che portano inevitabilmente alla mente ciò che accadde qui qualche anno fa e l'opera di costruzione messa in sicurezza del territorio in cui è impegnata la Giunta. 233 comuni alluvionati, 10.040 famiglie o imprese che hanno subito allargamenti e torna alla mente la vicenda del 2010 che per noi è stata un'autentica tragedia che non dimenticheremo mai. Un'esperienza dalla quale si è imparato come si deve gestire un'emergenza del genere in Italia. Noi in nove mesi abbiamo liquidato le posizioni, abbiamo girato la disponibilità finanziaria ai comuni. Abbiamo realizzato ad oggi 925 cantiere su 233 comuni, ma ci vogliono poteri forti e commissariali. Se entra in pancia la burocrazia italiana è finita. Dopo 16 anni di attesa dal precedente, il Veneto ha da oggi il suo nuovo piano sociosanitario pronto a passare alla fase applicativa. La Giunta regionale è infatti approvato in seconda lettura dopo l'iter valutativo in quinta commissione del Consiglio regionale le schede di dotazione ospedaliera che disegnano una nuova e più moderna rete di strutture. L'annuncio è stato dato oggi dalla Presidente Luca Zaia e dall'assessore alla Sanità Luca Coletto. E passavano insistentemente con l'automobile accanto a banche e ville del Bassanese. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, i carabinieri hanno arrestato due uomini e sequestrato un arsenale di armi. Quella macchina grigia di grossa cilindrata che girava insistentemente nei pressi di Villa e Banche di Bassano e di altri comuni del circondario aveva creato più di un sospetto. Le continue segnalazioni del passaggio dell'auto, un Audi A6, hanno dato il via ad una minuziosa indagine dei carabinieri di Vicenza che ha portato a Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia, all'arresto di due persone, tra cui un ex componente della Mara del Brenta e al sequestro di un imponente arsenale di armi, pistole, mitra, fucili anche a pompa ed esplosivo. Un'indagine meticolosa, quella svolta dall'arma, condotta attraverso un attento monitoraggio di una mole impressionante di filmati ricavati da sistemi di videosorveglianza, autovelox, tutor, fino all'individuazione dell'auto sospetta, seguita poi fino alla provincia di Venezia, fino all'abitazione di un insospettabile. Dopo una serie di ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno disposto il blitz nella casa di Fiesso d'Artico, scoprendo un autentico arsenale e arrestando le due persone che occupavano l'appartamento. L'auto è risultata rubata al parcheggio dell'aeroporto di Venezia, il proprietario ancora ignaro di tutto e in viaggio di nozze. E la polizia di Bassano ha avvistato nel tardo pomeriggio di ieri a Marchesane un'auto sospetta, risultata poi essere stata rubata a Montebelluna. In piedi accanto all'auto, una Fiat Punto, vi era un individuo che accortosi della volante che stava facendo retromarcia, si è dato immediatamente alla fuga, scavalcando una recensione privata e riuscendo così a dileguarsi. I poliziotti hanno ipotizzato che l'auto, ancora con le chiavi inserite, servisse per la fuga di malviventi intenti a compiere un furto in abitazione. L'intervento delle forze dell'ordine avrebbe così sventato il colpo. Vigili del fuoco di Bassano impegnati oggi a Casoni di Mussolente per verificare le condizioni del campanile dopo che sono stati trovati a terra dei calcinacci. Il campanile di Casoni è ancora una volta sorvegliato speciale, vigili del fuoco all'opera per verificare le condizioni della struttura. A richiedere il sopralluogo è stato il parroco di Casoni allarmato dalle condizioni del cornicione e per aver trovato a terra sul sagrato dei calcinacci. Oggi i pompieri hanno fatto un primo sopralluogo per capire effettivamente lo stato di salute della costruzione. I vigili del fuoco sono saliti attraverso la scala interna fino alla cime del campanile per avvicinarsi così alla cornice. Evidenti i segni dell'usura, le pietre logorate dal tempo, presentano un degrado derivante anche dalla presenza di piante infestanti, le cui radici si sono incuneate tra le fessure. Non si esclude nei prossimi giorni l'intervento degli uomini del SAF, il soccorso alpino e fluviale, che dovrebbero calarsi dall'alto per arrivare al cornicione e studiare ancor meglio la situazione. È in corso di valutazione la messa in sicurezza dell'area. Già nel maggio del 2011 il campanile era stato transennato sempre per le medesime problematiche. Nel campo San Pierese c'è forte preoccupazione per l'incremento del numero di furti in abitazione messi in campo controlli speciali da parte delle forze dell'ordine. Contro i furti, pattuglie in strada fino a notte inoltrata succede a Campo San Piero, dove nell'ultimo periodo sono stati segnalati numerosi furti, soprattutto i danni di abitazioni. Per far fronte al preoccupante fenomeno, la Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese ha organizzato una serie straordinaria di controlli allo scopo di garantire il maggior numero possibile di pattuglie nei quartieri. Oltre a questo, intensificati anche i controlli stradali in tutti i comuni dell'area. Un impegno straordinario dunque sul fronte dei pattugliamenti e l'invito va anche alla popolazione a segnalare subito alle forze dell'ordine persone o movimenti sospetti per permettere così a polizia e carabinieri di intervenire tempestivamente. Ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118, una donna in gravidanza rimasta leggermente intossicata per aver respirato del fumo spregionatosi dall'appartamento di un vicino di casa che aveva bruciato il manico in bachilite di una pentola. Il lafatto è accaduto in via Mantegna a Tombolo. Non sapendo da dove provenisse il forte odore, la signora allarmata ha chiamato i vigili del fuoco. E sempre i vigili del fuoco di Cittadella sono stati impegnati oggi nello spegnimento di un incendio di una canna fumaria a Fontaniva. Il fuoco è divampato da un'abitazione di via Primo Maggio a causa della fuligine presente nel cammino di una stufa a legna. Tanta paura per i proprietari, ma fortunatamente i danni sono contenuti e non hanno interessato le strutture portanti della casa. Siamo ora alla programmazione dei cicloni naturali e quelli politici, quindi si occuperà il focus di questa sera in onda alle 21.05 su Rete Veneta. Con il nostro direttore Luigi Bacialli ci saranno Diego Volpe Pasini, Gennaro Marotta, Alessio Morosina, Settimo Gottardo, Antonella Tocchetto, Manes Bernardini, Luca Mori e come sempre attendiamo durante la vostra diretta i vostri sms. Il nostro telegiornale quindi termina qui, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!